Non abbiamo annunci se non l'annuncio della visita al San Carlo del Presidente del Consiglio, non ufficiali, lo sappiamo per via stampa, ma non abbiamo né avuto comunicazioni ufficiali dell'effettiva venuta del Presidente del Consiglio né altro, quindi siamo a dove ci siamo lasciati l'ultima volta che ci siamo incontrati, per quanto ci riguarda non ci sono novità se non che ovviamente su tanti tavoli si continua a dialogare, a lavorare insieme, a cooperare, ma da un punto di vista se voi vi riferite a incontri diretti, a interlocuzioni dirette non c'è nessuna novità. Ovviamente attendiamo, credo che io più dei passi che abbiamo fatto, noi siamo abituati anche a fare i 100 passi, quindi abbiamo fatto tanti passi, ma da là non arriva nulla, siamo stati tutti protagonisti di una dialettica politica nella quale si è voluta a un certo punto costruire la narrazione del Sindaco isolato, ma mi pare che a questo punto questa narrazione è sbagliata, totalmente sbagliata, anche da chi la proponeva va rivista completamente, perché il Sindaco più di chiedere un incontro, più di dirlo più volte pubblicamente, più di fare dei passi, più di stare presenti a tutti i tavoli istituzionali, a un certo punto si interroga quale sia mai la ragione, perché il Presidente del Consiglio non intenda incontrare il Sindaco rieletto della terza città d'Italia, della capitale del Sud, della capitale del Mezzogiorno e di una città che continua a essere governata alle mani pulite, non attraversata la questione morale, che si sta riscattando da sola, nonostante i governi, con l'esclusiva partecipazione popolare dei cittadini. Io personalmente sarei curioso, se stessi all'altra parte avrei la curiosità di incontrarlo il Sindaco, ma fino anche per un quarto d'ora e venti minuti, lo sai che questo Sindaco non abbia qualcosa di importante magari che possa incuriosire il Governo, sicuramente andremo con il senso istituzionale che ci contraddistingue, quindi almeno finiamola con la storiella dell'isolamento della città e del Sindaco, perché sennò veramente è una narrazione che non si può più sopportare.